Il limite della medicina è la psicologia e il limite della psicologia è la spiritualità. La medicina continua ad esercitare la sua missione pensando che i disturbi psicologici non possano essere attribuiti ai disturbi fisici. La psicologia ha invece l'obiettivo di spiegare la meccanica cognitiva dei processi psicologici e soprattutto dimostrare che l'uomo non ha una parte spirituale. Per contro la saggistica e la filosofia da millenni trattano il tema del perché l'uomo è venuto alla vita e qual è il suo scopo finale. Mi chiamo Marco Gambella, operatore olistico e tratto il metodo Butto, il quale unisce aspetto fisico, aspetto psicologico e aspetto spirituale dell'essere umano. Questo metodo utilizza la psicologia e la medicina come strumenti per arrivare al conflitto emozionale e capire il vero scopo della venuta alla vita dell'uomo. Se vuoi saperne di più iscriviti alla mia pagina trattamentoemozionale.it su facebook e seguimi i video. Io ti ringrazio per il tuo tempo e ci vediamo presto!